bene ce l'abbiamo fatta mi sembra che siamo giuste ok adesso aspettiamo che si ricolleghino ok bene intanto avevo visto già un sacco di persone ma è vero che abbiamo dei progetti da far girare la testa ah infatti l'aveva capito anche il telefono forse è per quello dai 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 ecco dai stanno arrivando bene scusateci un piccolo problema tecnico ho detto che abbiamo un sacco di progetti e di cose da farvi girare la testa ma che addirittura l'avesse capito anche il telefono c'è feeling proprio nel team anche tecnologico anche tecnologico bene bene sono tornate tutte scusateci non so cosa sia successo ma sicuramente e c'era tante cose ok perfetto bene ciao ragazze ciao guarda guarda siamo già tantissime stasera siamo in negozio evviva e siamo in due quindi in tre in tre sì c'è un'altra che sicuramente fa anche lei la sua parte ciao ragazze ciao a tutte bene bene sono contenta perché vuol dire che questa cosa piace e non mi aspettando e ne abbiamo ancora iniziato penso allora ricordo che abbiamo un'ora stasera abbiamo sempre un'ora lei è sempre la mia il mio grillo parlante allora tantissime idee tantissimi progetti tantissimi filati guardate l'anna come ha sistemato tutti i filati per questa serata o no abbiamo uno sfondo super colorato super colorato meraviglioso sono felicissima allora siamo in negozio siamo in due l'anna fa la regia guardate a tablet telefono e adesso vado in postazione a rispondere a tutti i messaggi che arriveranno quindi voi tenetevi sempre attive quindi se dovete scrivere qualsiasi cosa nei messaggi qua sotto così li leggo al volo come al solito altrimenti scrivete su whatsapp che c'è l'anna che vi risponde insomma siamo attive attive ore quasi 40 meglio che cominciamo bene buono proseguimento siete in tre esatto sì sì benissimo ok buon proseguimento grazie e poi se ho bisogno tu correrai per il negozio a prendere la roba due metri di distanza vai a tutte a dopo allora intanto buona serata a tutte benvenute all'angolo delle idee perché oggi non siamo nella mia taverna ma siamo in negozio stasera ho come vi ripeto uno sfondo meraviglioso tutto mega super coloratissimo ho un tavolino qui pronto perché voi non potete vedere tutte le meraviglie che abbiamo qui sopra ma a parte i filati eccetera abbiamo tantissime idee e progetti da farvi vedere quindi io vi ho preparato un volantino che poi pubblicherò una volta finita la diretta così ve lo vedete tutto bene per chi è su whatsapp vi vi manderò tutto quanto via via appunto whatsapp e direi di iniziare allora stasera vi ho promesso che parleremo di filati ma soprattutto progetti ad uncinetto come sapete bene la moda del momento ma anche dell'anno scorso diciamo che abbiamo iniziato alla grande già l'anno scorso insomma la moda generale ha portato questa questa tecnica un po andata in disuso diciamo alle più cose più moderne insomma quindi abbiamo creato e realizzato un sacco di borse con le nostre mattonelle granny ad uncinetto che sono sempre super mega spettacolari e poi i nostri clienti vengono a farcele vedere sempre di più colorate insomma veramente siamo super felicissime però abbiamo tutti i nuovi filati e al di là del cotone e la microfibra insomma che poi vi farò vedere stasera abbiamo i filati nuovi che generalmente insomma sono difficili da trovare e difficili da utilizzare quindi abbiamo ve li illustro poi li vediamo passo passo abbiamo la juta guardate che colori meravigliosi e abbiamo qui sotto se dovreste riuscire a vederla sì la raffia quindi due cose che per l'estate wow non ce n'è per nessuno ne abbiamo veramente per tutti i gusti qui sopra l'anna vi ha preparato tutto il filato mantra che è un bellissimo filato in microfibra e potete utilizzarlo davvero per qualsiasi cosa soprattutto per gli accessori ecco poi abbiamo il cotone che diciamo che ha la base di tutto quindi abbiamo il cotone e di vari spessori oggi vi ho messo delle foto su facebook su instagram delle foto bellissime che già wow solo a vederle perché puoi vedere dal vivo insomma un'altra cosa ma vi ho preparato queste foto bellissime da vedere e abbiamo anche il nuovo filato per fare i costumi da bagno quello specifico perché così è specifico per andare in acqua perché non si impregna di acqua insomma è proprio specifico per i costumi leggermente elasticizzato quello è appena arrivato quindi ve lo farò vedere al volo non l'ho ancora inserito nel sito e non abbiamo ancora preparato il progetto ma non vi preoccupate che ci messiamo subito a uncinettare e a crearvi tutte le vostre cose siete pronte dai siamo già in 47 direi che possiamo partire allora vedo cuoricini arrivare quindi benissimo io vado serena allora ragazze soprattutto volevo parlarvi inizialmente per quelle che non hanno mai preso in mano l'uncinetto perché ce ne sarà qualcuna tra queste 50 persone che magari dicono sì bello tutto ma da dove si comincia allora parlo soprattutto per te per voi insomma quelle persone che adesso mi stanno stanno pensando a questa cosa oppure lo sapevo fare quando ero piccola me l'hanno insegnato le suore la nonna eccetera però vi assicuro che si può prendere in mano l'uncinetto si può realizzare qualunque cosa perché l'uncinetto a mio avviso poi magari sicuramente è una cosa personale è molto più facile rispetto ai ferri la lavorazione a maglia si può partire veramente da zero creando subito veramente delle cose fantastiche basta saper fare i tre punti base ok quindi daniela perfetto parlo per te allora inizialmente poi sicuramente ce ne saranno le altre l'uncinetto a tre punti basilari che sono la catenella il punto alto e il punto basso e vi assicuro ti assicuro che con queste si può fare già quasi tutto ok abbiamo i video tutorial quindi passo passo avrete per chi vuole iniziare diciamo questo percorso non c'è niente da fare di speciale abbiamo questi video corsi livello base quindi avrete a disposizione due video corsi più uno in omaggio cosa vi daremo? vi daremo il nuovissimo filato treccia adesso io qua ho solo due colori ma ce ne sono circa una ventina qualcuni li vedete appesi qua alle mie spalle li vedete tutti nel nostro shop online o se venite qua in negozio abbiamo un espositore bellissimo super mega colorato e pieno di trecce eccolo qua allora questo è quello che abbiamo pensato di utilizzare per quel che riguarda l'uncinetto livello base mi soffermo un attimo di più perché perché c'è sempre chi vuole iniziare e magari lasciamo perdere il tempo che non ce l'abbiamo neanche nessuno ce l'ha il tempo ma si trova sempre quando c'è qualcosa da fare che ci piace quindi tempo a parte non è una scusa non è una scusa accettabile si parte e i video corsi sono vostri potete guardarli tutte le volte che volete anche fra tre anni sono vostri quindi anche solo per riprendere in mano un attimo abbiamo i punti base e poi appunto il secondo video il terzo video in omaggio è quello in cui vi insegnerò a fare una tovaglietta da colazione con questo filato quindi diciamo si parte a fare catenelle chilometri di catenelle come dico sempre io ma poi alla fine realizzate proprio con questo con questo filato il progetto della tovaglietta da colazione bene quindi per tutte quelle che dicono non ho mai preso in mano un uncinetto questo è perfetto ed è il primo punto base veramente che ci tengo tantissimo perché ogni giorno qua in negozio ne sentiamo sì sarebbe bello però non sono capace oppure non mi ricordo più come si fa vi prego ci vuole un attimo e voi non avete idea di quanto fa star bene questa cosa dopo c'è chi viene nervoso certo che sì ma non sono non siamo noi non sono queste 60 persone che sono insieme con noi perché se siamo qua vuol dire che ci piace detto questo sorvolato questo discorso aiuto devo iniziare facciamo che abbiamo iniziato perfetto adesso vi diamo tutti i nostri progetti da fare e vi assicuro che col livello base riuscite a fare tutti questi che adesso vi illustro dove partiamo Anna abbiamo fatto il livello base bene io direi di partire con l'aiuta visto che ce l'ho qui comoda che ne dite allora per quel che riguarda l'aiuta prendo un colore a caso ci piace moltissimo non c'è altro da dire ma proprio è rilassante poi quello da dire ti metti lì anche solo se fai poco perché hai quella mezz'ora di tempo prima di andare al lavoro prima di ti metti lì dici no cavoli voglio andare avanti un altro pochino e poi alla fine le cose vengono da sé veramente si fa si fanno dei progetti spettacolari poi passatemi il termine è ovvio che i centrini della nonna sono una cosa e senza nulla togliere il lavoro enorme che si è fatto una volta però abbiamo tantissimi filati nuovi progetti nuovi la moda ci sta aiutando la grande perché poi vedrete cosa vi farò vedere quindi veramente ragazzi ci sono delle cose che costano una follia e giustamente se sono fatte a mano è giusto che sia così ma se riusciamo a farle da noi ma non è mica meglio e la soddisfazione cosa cosa ne dite la soddisfazione andare in giro con la borsa fatta a mano da noi non c'è paragone non c'è prezzo che tenga assolutamente chiusa prendersi l'aiuta eccola qua allora si presenta così un gomitolino sono 100 grammi 65 metri si lavora tranquillamente con l'uncinetto come dico sempre se siete abituati con il cotone e la lana ovviamente questi filati sono un po' diversi ma vi assicuro che una volta preso la mano si va alla grande io ho lavorato i miei progetti con il numero 4 l'uncinetto numero 4 si va tranquillamente e l'effetto finale è veramente bellissimo ed è il classico cordoncino di juta vediamo se riesco a beccare un pezzettino è il classico cordoncino di juta eccolo qua grezzo è proprio la sua bellezza insomma e niente basta solo guardare i colori e c'è l'imbrazzo da scelta allora cosa abbiamo pensato vi abbiamo proposto queste bellissime pochette adesso voglio sempre ogni volta che vi faccio vedere un progetto vorrei vedere dei curicini o qualcosa insomma giusto per capire o messaggi meglio così li leggiamo l'anna li legge liberamente costrette sì sì proprio una cosa che viene dal cuore però così almeno insomma ci stiamo lavorando da un mese almeno sappiamo se piace o no cosa dici ok allora la pochettina in questione è già realizzata ecco vedi che stanno arrivando tutti i cuoricini bene grazie allora la pochettina è già pronta con la cerniera e noi vi abbiamo realizzato questo inserto eccolo qua lei ha la gialla cernierina ed è comodissima adesso per l'estate sia da portare in giro magari il cellulare piuttosto che soldi eccetera i fazzoletti così che per esempio per l'estate potrebbe essere un'ottima idea per la spiaggia perché è una pochettina a mano ed è comodissima l'idea è questa allora o questa serie qui questa questo inserto questa fantasia questa lavorazione d'uncinetto e questa qui ok allora cosa abbiamo pensato qua vi abbiamo creato un kit bene vedo messaggi quindi grazie tu li vedi messaggi tante faccette con la bocca aperta di stupore ok allora andiamo avanti mi piace allora vi abbiamo preparato un kit ragazze qua avete il gomitolo di juta a scelta nel colore perché è vero che io ho realizzato questo ma come si faceva a scegliere ce n'era uno più bello dell'altro quindi io vi ho realizzato queste due idee con un gomitolo quindi veramente ce n'è tanta roba avete il a scelta le due pochettine o una o l'altra potete scegliere voi quello che volete avete il bottoncino questo qui potrebbe essere a forma di cuore a forma ovale rettangolare vero Anna ne sono arrivati tanti insomma quindi quindi quello che c'è mettiamo a disposizione aspetta che vedo le ultime appena arrivate Anna Maria ti sei persa solo all'inizio che faccio una piccola presentazione ma sono all'inizio sei al primo progetto ok rispondi tu Anna se dopo vedi perfetto così io vado avanti se no mi perdo il filo il filo il filo proprio del discorso allora dicevo kit avete un gomitolo di juta il bottone automatico che serve in questo caso per la chiusura di questa qui avete il cuoricino o l'etichettina insomma quello che riusciamo a darvi nel kit che ho scritto fatto a mano e una delle due pochette a scelta quindi potete scegliere questa che ha già l'inserto di juta attaccato eccolo qui oppure questa che è in tinta unita ma la cosa bella è che vediamo i video tutorial di entrambi i progetti quindi anche solo acquistando una pochette noi vediamo tutti e due i video tutorial che premetto al di là di questo che è bellissimo da utilizzare in qualsiasi posto proprio di chiusura ma questo lo dico anche nel video è una bellissima idea da utilizzare come pizzo di bordura quindi vi ho creato il video con l'aiuto perché ce l'avevo lì e ho creato proprio la pochettina ma in realtà pensateci un attimo per esempio al bordo di un asciugamano al pizzo di un asciugamano questo è eccezionale come idea di progetto realizzato con un altro filato quindi con questo kit voi avete a disposizione due video tutorial uno compreso nel kit e uno in omaggio e potete realizzare queste due bene direi che questa è già tanta roba perché riuscite a creare veramente una cosa bellissima diversa dal solito e non è la classica borsa che premetto che si può ovviamente utilizzare per fare proprio delle borse questa questa aiuta qua si lavora uncinetto ed è bellissima poi vi faccio dare dalla Anna i manuali di della mondial perché questa è della mondial e dove hanno creato proprio delle borse fatte con l'aiuta che così vedete le foto ve le faccio vedere queste sono le pochettine questa è quella in tinta unita la cernierina e tutto è già foderata dentro ok queste potete comprarle anche separatamente al di là del kit ve le ho messe tutte gli accessori nel sito potete acquistarle separatamente vedete che questa eccola qua ok ci abbiamo fatto l'inserto bene fuori uno questo è il primo progetto vado alla mano secondo il mio volantino che ho qui davanti perché se no me perdo quindi adesso procedo subito con la shopper in juta allora e voilà questa è la shopper in juta quindi non la borsa classica rigida che abbiamo utilizzato per fare le borse queste qui con le mattonelle grandi ma questa è una shopper morbida che si mette a spalla ok e noi abbiamo realizzato un mandala un mandala come volete chiamarlo eccolo qua sempre ad uncinetto ed è stato applicato sopra la borsa qui abbiamo utilizzato il cotone estate che è quello che avete visto oggi che vi ho mandato tutte quelle foto di tutti i colori che erano stupendi e abbiamo creato appunto questo questo progetto e poi applicato sopra qui avete a disposizione sempre il kit un po più elaborato perché perché poi alla fine unione può fare quello che vuole no allora qua nel nostro kit per esempio abbiamo nel nostro nel nostro campione abbiamo cinque colori assortiti potete scegliere i colori che volete per questo per qualsiasi altro progetto che avete in mente perché è un cotone fantastico da utilizzare anche per il bordo di pizzo famoso che vi dicevo prima per l'asciugamano quello è un ottimo cotone da usare come pizzo per l'asciugamano e cosa abbiamo fatto qui allora abbiamo creato un kit con video tutorial quindi vi spiego passo passo come realizzare il mandala questo qua a uncinetto e come applicarlo alla borsa poi avete la shopper in juta questa qui grezza quindi la verità ovviamente così poi potete applicarlo dove volete farlo più grande più piccolo perché poi nel video vi spiego tutto e o tre gomitoli di colore perché magari una vuole farlo di tre colori oppure cinque come il nostro i colori però sono sempre a scelta quindi potete scegliere voi il colore che preferite farvi gli abbinamenti in base ai numerini che vi ho messo nei vari gomitolini ok poi comunque lo ripubblicheremo ve lo manderemo whatsapp chiedeteci non c'è nessun problema insomma allora questo per quel che riguarda la shopper quindi avete un kit con la borsetta ma siccome poi l'abbiamo riproposta in un altro progetto che adesso vi faccio vedere avete a disposizione il kit senza la shopper quindi dite ok mi piace tanto il mandala voglio farlo però non mi piace la borsa di shop di juta e voglio realizzarlo per esempio per mettere da un'altra parte e quindi abbiamo pensato anche a questo adesso ve la apro ok anche qua voglio vedere questa non vedevamo l'ora di farvela vedere questa e anche le altre adesso vi faccio vedere eccolo qua questo è lo stesso identico progetto della shopper quella lì di juta però l'abbiamo riproposto nella versione moderna come vi dicevo ecco perché la moda aiuta molto perché questi inserti di pizzo di mattonelle di bordi eccetera ad uncinetto sono spettacolari per l'estate da mettere adesso noi l'abbiamo messa su una t-shirt ma potrebbe essere il giubbino di jeans potrebbero essere di pantaloni per esempio dove ci sono le tasche no mi fate la mattonella dove ci sono le tasche dietro cosa mi viene in mente dopo cosa che ho detto oggi le maniche delle delle t-shirt delle magliette cioè pensate la maglietta bianca che avete nell'armadio e anche semplicemente rovinata giusto ottima idea l'anna dice se avete una maglietta rovinata magari avete che ne so la macchiolina piuttosto che ottima idea quest'anno perché sia anche un bouquet insomma qualcosa da modificare da rendere ancora più bello nessuno saprà niente però allo stesso tempo un bel mandala piuttosto che una mattonella adesso vi faccio vedere le altre è un'idea geniale quindi noi ve l'abbiamo realizzata così perché possiate vedere il campione ve lo faccio rivedere perché questa se l'è già caparrata l'anna questa ha detto che è già sua e quindi ho fatto il campione direttamente per lei ed è lo stesso identico progetto della shopper ecco perché vi abbiamo creato i due kit perché se a una piace la shopper si prende il kit con quella decide quanti colori o tre o cinque e anche la shopper di juta ma poi avete comunque il video e i fili per fare tutte le magliette che volete mentre chi non piace la juta abbiamo creato l'altro kit quindi niente shopper e vi fate il mandala da applicare in qualsiasi altra superficie piuttosto che indumento quello che volete questo è il cotone estate che abbiamo utilizzato aspetta che ne eccolo qua lo trovate comunque a parte in negozio ma sempre nel nostro shop online nella sezione obistica filati c'è scritto cotone c'è scritto cotone estate e vi ho messo tutti i colori che abbiamo a disposizione eccolo qua questo si lavora con l'uncinetto numero 3 perfetto ogni tanto leggo qualche messaggio però non voglio perdermi il filo però sì sì qualche buchetto in giro qua e là ci fate il fiorellino il mandala poi di bello cosa che in realtà ad ogni giro vi potete fermare quindi ogni fate conto che sia il colore no ogni volta che tu finisci un colore dice ok mi piace di questa misura mi blocco lì insomma ecco qui non deve essere per forza di 20 centimetri se uno devo farlo per una bambina per esempio lo fa più piccolino potrebbe essere un'idea ma poi nel video vi dico tante altre idee dove poterlo utilizzare come poter fare continuerei un attimo col discorso delle t-shirt perché dopo vado avanti allora il mandala ve l'ho fatta vedere questa ce l'ho qui vicino aspetta perché la mia amica qua ecco un po' bassa ma adesso la faccio vedere ho il manichino questa è un'altra idea quindi sempre col discorso delle applicazioni ad uncinetto visto bene poi vi manderemo le foto scusate e questa giusto per è un'altra idea ho fatta nera stavolta così per cambiare ok questa è l'applicazione sotto a una t-shirt eccola lì quindi potrebbe essere in giro qua e là le mattonelle potrebbe essere la base sotto il mandala insomma quello che volete però è un'idea geniale appunto da poter utilizzare in qualsiasi indumento ovviamente lo dico sempre anche nel video bisogna lavare entrambe le cose quindi sia la t-shirt se è nuova che le mattonelle perché ovviamente hanno due cali diversi e non è bello vedere poi che si ristringe quindi una volta fatto questo passaggio si va alla grande allora continuo con le t-shirt vedi i cuoricini bene come siamo messi fin qua perché adesso io sto andando avanti sapete che sono un po' bla 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 però insomma vi devo dire tante cose ed ho la mia solita ora di tempo se no sforo anche stavolta continuo col discorso delle t-shirt perché prima vi ho fatto vedere il mandala ma questa non è il mandala queste sono delle mattonelle ok sono delle mattonelle granny come quelle che abbiamo utilizzato per le nostre borse quelle di juta ma non sono le stesse ve le faccio rivedere ok non sono le stesse perché qui vi ho fatto un regalo quando finisco la diretta andate a vedere nel nostro canale youtube ok quindi l'angolo delle idee youtube vi dovete trovare vi dovreste trovare pubblicato il video tutorial gratuito di questa mattonella e come applicarla poi eventualmente alla t-shirt piuttosto che su qualsiasi altro supporto perché io ho realizzato il campione della mia t-shirt però allo stesso identico modo si può si può attaccare ovunque quindi questo è un altro regalo che un piccolo regalo che vi abbiamo fatto però sono sicura che sarà molto gradito perché le mattonelle sono velocissime ecco per chi parlavo prima per il discorso delle principianti le mattonelle sono velocissime da fare di grande effetto l'importante è veramente metterci tanti colori perché fanno veramente wow e una volta imparato ecco parlo per daniela visto che ti prendo in appello ma visto che sei alle prime armi sono una volta capito cui livello base dei miei video ti assicuro ma te lo garantisco e sono certa di questo che riesci a fare una mattonella senza preoccuparti di niente cioè ti viene così ok e quindi ci cavoli quando mai non ci ho pensato prima perché poi veramente si creano delle cose bellissime bene passo ne ho già detti tre quattro anna non devo essere così veloce perché sennò finisco subito lo sapete che noi ci divertiamo un sacco a farle dirette quindi non posso un po devo un'altra mezz'oretta come minimo vi ricordo che poi potete rivedervela quando volete e a breve insomma poi la pubblicheremo anche nel canale youtube quindi per chi non ha facebook non riesce ad entrare non lo so riuscite a vederla anche da youtube e quindi siamo arrivati alle t-shirt t-shirt con le mattonelle con il video tutorial gratuito su youtube a brevissimo andiamo avanti un altro bel progettino che molto probabilmente avete anche già visto è questo che il cistino porta tutto e sono particolarmente orgogliosa di questo al di là del progetto finito che è sempre molto bello da vedere ma perché è stato uno dei primissimi video che abbiamo messo su youtube ed è realizzato col filato mantra che è questa meraviglia qui sopra è un filato in microfibra si lavora con l'uncinetto numero 4 è leggerissimo quindi al di là della microfibra che magari si usava qualche tempo fa che invece era molto pesante proprio in grammatura pesante anche le borse mi ricordo che già era pesante la borsa più ci mettevamo dentro noi donne tutte le nostre cose della serie andavamo via con tre chili di borsa invece questa è molto molto leggera e appunto si lavora con l'uncinetto numero 4 e avete tutti quei colori a disposizione questo è uno dei primissimi video come vi ho detto quindi l'ho trovata già su youtube passo passo e anche qui per le principianti è un'idea geniale perché a parte che è spiegato veramente nei minimi dettagli e meno vedo i messaggi che arrivano sotto al video vuol dire insomma che sono riuscite tranquillamente senza problemi e poi è molto bello da mettere per esempio in bagno mi viene in mente i porta prodotti mi viene in mente i porta lavette con gli asciugamanini insomma quelle cose lì è molto bello potete realizzarlo in varie misure qua per esempio ci vuole un gomitolo in mezzo quindi veramente con poca roba riuscite a fare tanto anche solo farlo anche un po più altino eventualmente avete la possibilità di utilizzare il gomitolo a oltranza e farlo alla misura che volete voi qui vi abbiamo preparato il kit quindi avete a disposizione il filato mantra nella scelta del colore che vi piace di più e vi abbiniamo ovviamente il nastro che poi nel video andate a vedervelo vi faccio vedere come metterlo e tutto quanto e così vi potete creare il vostro cestino porta tutto questo l'abbiamo utilizzato per esempio tantissimo anche per metterci tipo le cose di natale per fare la composizione quindi è veramente una cosa che io penso al bagno dei prodotti ma in realtà si può utilizzare in qualsiasi altro modo c'è stata qualcuna tempo fa che l'aveva fatto anche più piccolino sempre seguendolo il video però l'aveva fatto più piccolino per metterci dentro tipo due lavettine e con quel sacchettino così aveva fatto una bellissima idea regalo per la per pasqua insomma è giusto rosa un bellissimo cestino anche per la nascita bravissima ottima idea non mi era venuta grazie per i prodotti certo i prodotti bellissima idea mi piace piace molto poi c'è rosa c'è azzurro ci sono tutti colori che volete quindi vedete che poi alla fine parte e quando si accende la lampadina non ce n'è più per nessuno con lo stesso identico filato questo l'avete visto qualche settimana fa che l'abbiamo messa sempre sui social chi ci segue abbiamo realizzato la borsa questa qui tricolore l'abbiamo chiamata e anche questa qua è facilissima da fare la cosa bella è che ha i manici a incastro eccoli qua tipo quelli delle borse che conosciamo bene ok quindi abbiamo tutti gli accessori sia per fare il discorso dei filati insomma ovviamente potete scegliere i tre colori che volete di più che vi piacciono di più e i manici i manici aspetta che l'anna mi aveva portato su eccolo qua come è fatto ok ci sono i manici con questo qui la vitina di incastro nel video tutorial che adesso vi dico vi spiego come fare quella solina lì dove incastrare il manico e avvitarlo e potete cambiare i colori in base ai colori che avete scelto del mantra che si chiama mantra questo filato non l'avevo detto cosa dirvi questo è un video tutorial gratuito che potete richiederlo tramite un link che o lo trovate appunto nei primi in qualche settimana fa abbiamo messo le foto c'è un link altrimenti nessun problema chiedetelo o qui sotto o su whatsapp che vi giriamo il link basta richiederlo mettendo i vostri dati vi arriva direttamente il video via mail così ce l'avete per sempre è vostro ed è gratuito potete anche solo guardarlo come si realizza e poi decidere appunto se prendere il filato o meno anche questa è bellissima per chi ha le prime armi questa eccezionale eh e per quel che riguarda i principianti dell'uncinetto non esistono nel senso che una volta imparato quei tre punti base lì veramente si può fare di tutto ed è molto bella per l'estate eccola qua che ne dite parlando di borse qua ce ne sono per tutti i gusti per tutti le fantasie ecco dove sono arrivata al cestino sì abbiamo l'ultima borsetta siete annoiate aspetta che guardo un po di gente c'è no c'è ancora 70 persone quindi penso che speriamo allora l'ultima borsetta l'ultimo campioncino che ho fatto aspetta mi sono persi i messaggi dopo guardiamo l'ultimo progettino che abbiamo fatto eh abbiamo realizzato la pochettina fatta con la raffia allora la raffia è questa eccola qua anche qua colori vediamo se riuscite vediamo se riuscite a vederli sì riuscite a vederli ma li abbiamo già inseriti tutti quanti nel nostro shop online li vedete li potete trovare qua in negozio eccola qua ci sono tantissimi colori ed è proprio la raffia vediamo forse questa così riuscite a vederla meglio il filato è proprio questo ok allora qua avete due gomitoli di raffia perché serve per fare la pochettina e la cernierina perché questa poi l'abbiamo chiusa ad hoc e ci abbiamo fatto pure l'interno è eccolo qua ci abbiamo fatto pure il rivestimento interno qui avete il video tutorial passo passo dove vi faccio vedere non solo come realizzare la pochette ma nello stesso identico modo come realizzare una borsa a tracolla quindi con lo stesso identico video girate in un'altra maniera riuscite a fare anche una borsetta eventualmente e la fodera interna con la cerniera e il video tutorial appunto nel video vi faccio vedere anche come proprio cucire e realizzare l'interno della borsetta quindi avete veramente passo passo tutto quanto e la raffia veramente anche io quando iniziato dico cavoli è perché si è abituati con il cotone o la lana ma poi una volta che parti vai alla grande e nel video lo dico aspetta giusto per visto che servono due gomitoli per fare questa borsetta qui nel video dico anche che si può realizzare in due colori cioè io io ho usato due verdi e però siccome è fatta a righe con tutti questi archetti potete veramente utilizzare una riga di un colore una riga di un altro e realizzarla b color molto bella per cambiare il filo lo vedete in il colore del filo lo vedete in qualsiasi video che ho fatto delle mattonelle anche questo ultimo che sto pubblicando pubblicherò insomma fra mezz'oretta potete vedere come fare il cambio del filo per chi ha questo dubbio anche se la mattonella è una cosa e questa è un'altra però il cambio del filo è il colore cambio del colore del filo è la stessa identica cosa bene allora in realtà io per questi progettini sono a posto nel senso che le novità ve le ho fatte vedere con i nuovi filati mi manca il filato quello nuovo del non mi viene la parola del del costume scusa non mi veniva del costume che è questo si chiama bikini ovviamente non poteva chiamarsi diversamente eccolo qua è un filato che è appena arrivato quindi purtroppo io non ho ancora fatto il campione ma lo faremo a breve anche perché deve arrivare una una rivista con un sacco di schemi ma bellissimi vero hanno proprio del per fare i bikini per fare i top sempre con questo filato qua bellissimo si lavora con l'uncinetto 5 o 6 ma poi dipende dalla mano insomma io lo lavorerei anche con il 4 perché sia più fitto e contenitivo possibile ci sono tanti colori anche qui una decina di colori non l'ho ancora inserito nel sito perché appunto è arrivato l'altro giorno datemi il tempo materiale poi lo trovate si chiama bikini ve ne faccio vedere due tre colori ma ce ne sono circa una decina vedete che belli anche qua sarebbe bello fare proprio gli abbinamenti eccetera che altro devo dire per prendo fiato intanto un attimo buona stai rispondendo tutte perfetto mi raccomando per qualsiasi cosa vi lascio il numero lo so che la maggior parte di voi ce l'ha ci scrive però ve lo scrivo ve lo dico scrivetevelo 366 489 0404 ok l'importante è scriverci nome cognome così vi salviamo perché abbiamo circa 2000 contatti in questo numero quindi è difficile poi riuscire a capire chi siete se non ci scrivete il nome e soprattutto per chi vuole essere inserita dentro la lista per aggiornarvi su tutto quello che facciamo eccetera e soprattutto vedere lo stato di whatsapp che è il dietro le quinte la parte più a volte divertente a volte informativa a volte così simpatica giusto per farvi vedere le ultime cose che sono arrivate anche quello guardatelo perché quasi quotidianamente insomma lo aggiorniamo anche oggi ho messo delle cose nuove che sono arrivate appena arrivano i pacchi li apriamo li vi facciamo vedere cosa è arrivato ecco quindi è molto bello e ve lo siete segnato per il numero mi raccomando è poi io ve lo segno dei anna scrivilo dopo nei commenti così se lo salvano ok bene perfetto allora per quel che riguarda le novità io le ho finite per il momento ma lo sapete che non abbiamo mai esaurito tutte le novità che abbiamo che ci fronano per la testa volevo soltanto farvi vedere invece il discorso delle borse queste qui di juta perché si era la novità dell'anno scorso ma stanno andando ancora alla grande anche quest'anno tanto che sono ritornate le borse di juta sono arrivate delle misure diverse quindi adesso io ve le se non sto annoiando ditemelo io rifarei un attimo una carrellata di queste borse qui e del filato che utilizziamo per queste eccole qua benissimo intanto controllo se c'è qualche messaggio per me ma stasera c'è l'anna che risponde quindi io vado avanti allora queste borse qui sono in juta quindi una volta fatto il discorso delle delle piastrelle delle mattonelle basta rivestire la borsa di juta che adesso l'anna mi porta così vi faccio vedere perché abbiamo tante misure e formati anche per un discorso di manici e adesso sì aspetta che tanto l'anna mi fa vedere un po tutto manico piatto allora la valletta ragazze fare le dirette con la valletta non è una cosa da poco così scontata perché sono abituata a farle da sola invece l'anna mi sa che prossime volte ti tocca allora quando le facciamo in taverna per forza io sarò la che cullo eccola e tu farei le dirette allora e abbiamo varie misure questa è la più piccolina con il manico piatto è sempre molto capiente aspetta che la apro è quella qua molto capiente poi nella misura è carinissima da tenere a mano e diciamo che chi ha poco tempo e voglia si fanno poche mattonelle mettiamola così insomma che se dobbiamo girarla in questo modo diciamo che il lavoro è minore ecco dopo non si deve dire perché in realtà se piace si fanno non si fanno la grande grazie valletta seconda misura questa è la quadrata 30 per 30 sempre con il manico piatto attenzione a questo perché dopo vi dico perché vi dico piatto sempre molto capiente e questa è della stessa misura praticamente di questa quindi vedete che fate un 3 per 3 come mattonelle e vi ricordo che questo tutorial è gratuito sul nostro canale youtube sia come fare le mattonelle quindi proprio passo passo come realizzare questa nei vari colori questo per questo abbiamo utilizzato l'ancor creativa adesso vi faccio vedere il filato e poi lì c'è un altro video per farvi vedere come cucirle alla borsa di juta ok quindi avete due video separati in base alle vostre esigenze andate a vedervi quello che vi interessa di più balletta stiamo rispondendo abbiamo anche le campane stasera perché noi siamo qui in centro e quindi abbiamo a casa mia non le sentite le campane ok questa ma scusa mi hai dato sempre manico piatto sì allora questa è la rettangolare sempre con il manico piatto eccola qua sempre capiente qua fate conto che secondo me ce ne saranno tipo 4 per 3 adesso non ricordo ma comunque c'è da lavorare un attimo di più però alla fine è molto più capiente ed è più grande perché vi ho detto manico piatto perché la differenza tra le prossime che vi faccio vedere è proprio il discorso di questo qui ma questo qui è eccezionale anche se dovete metterci ad esempio questi ok perché tante a tante piace il discorso dei manici in bambù cosa si fa si prende questo che è il nostro manico si taglia si inserisce dentro l'asolina che c'è il gancettino di metallo oro argento potete scegliere e poi si fa l'asoletta così per attaccare questo c'è l'asolina lì sotto eccola qua riuscite a vederla di metallo e ci attaccate questo qui sotto così poi riuscite a realizzare la borsa con il manico in bambù mentre per quello piatto sarà sarebbe un po più difficile adesso per quello tondo sarebbe un po più difficile da fare questo lavoro adesso ve lo faccio vedere e trovate sia le borse delle varie misure la shopper anche quella di prima sempre aiuta morbida però i manici gli accessori anche i manici questi qui con l'incastro abitabile li trovate tutti quanti nella sezione accessori dei filati sempre nel nostro shop online potete cercare quello che volete eccetera allora visto che ci siamo continuiamo con la nostra carrellata di borse di juta questa che è la rettangolare scusami rettangolare con il manico tondo ecco questa direi che non gli farei quel lavoro lì del cambiamento del manico in bambù allora uno perché si fa più fatica questa poi ha una corda dentro quindi sarebbe difficile da tagliare da cucire insomma è molto più laboriosa quindi questa la lasciamo così se dovete farci il lavoro sì certo scusa posso potete rivestirla assolutamente sì se non vi piace vederle in bambù in corda così in juta potete rivestirla uncinetto quindi fate un punto basso tutto intorno e la rivestite del colore uguale ottima idea anche questa però non da tagliare da fare col manico in bambù e questa che è la stessa identica del mio campione eccola qua sempre quadrata con il manico tondo e questa diciamo che è perfetta così sempre capiente io non le ho aperte ma sono tutte così eh con la con l'apertura molto grande in modo che siano belle capienti e questa è l'ultima ma è quella che vi ho fatto vedere prima con il mio mandala ve la ricordate ecco anche questa la trovate eh separatamente al di là del del mandala ma se volete prendere queste farci tutte mattonelle o farci quello che volete la potete trovare grezza così da decorare eh nella sezione accessori dei filati giusto giusto sì giusto bene abbiamo detto anche tanta roba ah il cotone è creativa aspetta che vi faccio vedere l'ancor creativa vi faccio vedere questa potrà che il mio tavolino comincia a riempirsi di roba allora questa e questa due idee giusto per capire che la stessa identica cosa che magari una può dire cavoli è troppo sgargiante non mi piace questa idea ma per esempio la stessa identica cosa nella versione più delicata cambia completamente l'effetto finale e la mattonella è la stessa ok abbiamo fatte appositamente due cose completamente diverse proprio per far vedere la differenza perché è vero che insomma sono cose un po particolari soprattutto da portare perché sai un conto è magari il centrino messo lì o la cosa messa lì però queste si va in giro voglio dire quindi una deve essere un attimo portata anche alla gradazione dei colori scelti eccetera che è molto importante ecco perché a noi piace quando apriamo le cartelle colori che arrivano i rappresentanti ci dicono guarda questi sono i colori a disposizione aprono questa cartella e ci sono circa 80 colori e ogni volta vero Anna ogni volta dico compriamo tutto bellissima ma alla fine allora uno dove li mettiamo perché non è che ne compriamo un gomitolo per colore uno dove li mettiamo e dopo come si fa a scegliere voi mi dite come si fa a scegliere allora cosa facciamo tocca comprarli tutti esatto alla fine ok non stiamo neanche lì tanto a scervellarci dammeli tutti è bella finita ma perché ma perché poi alla fine è un vincere facile quando tu devi fare una gradazione di colore e fare un lavoro fatto bene se hai tre colori in croce si viene fuori bella per carità però insomma fai quello che fai quando ti metti lì e ti fai le tue belle gradazioni il progetto finito è tutta un'altra cosa dite la verità insomma lo so io che quando vi vengono i cinque minuti va bene tutto quello che sia in casa però se devi stare a fare una cosa fatta bene ci perdi quei due minuti di tempo in più e ti fai una bella gradazione di colore e dopo ce l'hai per sempre insomma quindi questa a differenza di quell'altra l'abbiamo rivestita soltanto la parte davanti sempre per un problema di tempo e voglia o quello che volete voi e per farvi vedere che appunto si può lasciare il retro e il laterale così ma fare la parte davanti tutta decorata per fregare l'idea di rivestirla tutta ok mentre questa non è stato fregato nessuno perché l'abbiamo fatta proprio tutta quanta però vabbè insomma chi ha tempo e voglia si mette lì le fa anche perché la mattonella una tira l'altra è quando tu ne fai una ci metti veramente un niente beh dai ne faccio un'altra dai ne faccio un'altra ne faccio un'altra e alla fine ci cavoli ma quando fate 30 non mi sono neanche accorta perché veramente alla sera ti metti lì e poi è un attimo farla un'altra cosa mi stavo dimenticando Anna le mattonelle che vi ho fatto vedere prima aspetta 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 queste eccole qua queste che vi ho fatto vedere prima che le trovate sul canale youtube tra poco quando finisco la diretta andate a vedervele sotto nella descrizione guardatela perché lo so che quando aprite del telefono vedete solo il video ma c'è la descrizione sotto e a volte il più delle volte ci sono delle cose interessanti in questo caso per esempio c'è da richiedere lo schema ok vi arriva via mail lo schema gratuito della stessa mattonella di cui avete visto il video quindi ci sono delle persone che vanno benissimo con il video passo passo ed è veramente una genialata perché mi rendo conto anch'io quando devo decidere cosa faccio per questo progetto ragazze vi assicuro che per fare un video di dieci minuti ci vuole una settimana perché bisogna farlo passo passo montarlo insieme lo dico sempre ma perché c'è tanto valore e siamo abituati a cliccare e a vedere è bella finita ma non solo per i miei ovviamente tutti quelli che fanno video tutorial c'è un lavoro dietro pazzesco ed è molto bello quando invece viene apprezzato magari con i commenti sotto piuttosto che farmi vedere che si è triste realizzare quel progetto grazie al video cioè è gratificante da morire e sotto nella descrizione di questo video in particolare c'è la richiesta dello schema quindi per chi riesce a leggerlo insomma per chi ha piacere avere lo schema basta richiederlo vi arriva via mail se non vi arriva via mail è perché o avete la mail strapiena tipo la mia 8 miliardi di mail le più non lette perché non sono super mega pubblicità e ovunque lo sapete bene anche voi o avete la mail piena o tante volte purtroppo vanno a finire anche in spam nella posta indesiderata quindi potete richiedercelo non nessun problema noi ve le mandiamo via whatsapp ma prima di far questo controllate in spam controllate da qualche parte perché in realtà sono cose automatico dovrebbero arrivare nel caso nessun problema siamo qui ve la giriamo direttamente noi scriveteci su whatsapp insomma ecco quindi andate a vedervi anche quello di quel video lì prendo fiatto sempre e l'ancor creativa come siamo messi a messaggi e benissimo siete super attive anche voi insomma che sono 9 20 bravissima mi dica sono in tempo ho già finito quello che devo dire ma perché di solito mi dice sempre su dice basta perché continui e se non mi do il timer di un'ora io vado avanti al trance invece sono stata bravina guarda 9 20 bene allora io sono sempre per questi colori super mega guardate che belli io già guardare questo anna guarda ha avuto un'idea geniale metterla così perché è bellissimo è bellissimo cosa dite del mio sfondo dopo ci facciamo una foto anna perché guarda che questo sfondo è bellissimo da vedere allora questo è l'ancor creativa che abbiamo utilizzato per fare questa ma potete utilizzarlo per fare qualsiasi altra cosa di che vi ho detto stasera potrebbe essere il mandala potrebbe essere le le piastrelline quelle piccoline che vedete qualunque cosa perché veramente è un cotone eccezionale da lavorare si lavora col tre e mezzo quattro dipende dalla vostra mano e ci sono tante tante abbiamo un espositore ho preso 4 5 colori ma abbiamo un espositore intero che sta scoppiando e sta scoppiando perché continuiamo ad aggiungere ma si prendiamo anche questo colore ma si prendiamo anche questo colore e alla fine non ci stiamo più come il solito ecco esatto comunque questo è il cotone e l'ho trovato vero anna maria bellissimo lo sfondo dopo ci facciamo una foto per forza io e l'anna sì ancor creativa dicevo ci sono sono da 50 grammi si lavora col tre e mezzo quattro dipende dalla vostra mano e sono circa 70 metri di filato ecco perché è bello il fatto che siano solo 50 grammi perché non siete obbligati a comprare un gomitolone che poi per fare una piastrella in realtà serve poca roba ma tanti colori quindi questa è veramente una genialata perché riuscite a fare una bellissima gradazione prendendo questi 45 colori e riuscite a fare delle cose così pensate anche al mandala di prima no col cotone estate abbiamo ho contato oggi che li ho messi nel sito non so 20 25 colori del cotone estate che avete visto in questi ieri oggi ieri tantissimi colori e già vederli così ci abbinerei questo con questo quindi fate vedetevi quella foto lì e cercate di mettervi insieme non so colore 3 col 27 e cercate di fare le vostre combinazioni di colore cioè veramente è spettacolare poi un gomitolino ne avete una valanga e mezza di filato perché fare una mattonella non serve tanta roba ok però serve avere più colori possibili per fare una gradazione che faccia dire wow allora le borse ve le ho fatte vedere di juta il cotone tutti quanti a parte non mi sono soffermata tanto su quello per il costume ma perché ripeto ve lo farò vedere a brevissimo con una volta realizzato anche il progetto e la treccia di cui vi ho parlato all'inizio vi ho parlato soltanto per quel che riguarda il livello base a uncinetto per chi se le perse riguardatevi la diretta dall'inizio perché è solo il pezzettino per chi non è non ha mai usato un uncinetto tra le 70 persone qua adesso oltre la daniela se c'è ancora che mi sta ascoltando c'è qualcun'altra che non ha mai preso in mano l'uncinetto proprio non sa non so neanche cos'è ecco neanche preso in mano uno farlo vedere il mandala sì route te la faccio vedere subito guarda aspetta che ho la borsa qui eccolo qua l'abbiamo proposto nella shopper ma anche nella t-shirt adesso ti faccio vedere quindi in realtà non sei obbligato a comprare per forza la shopper se vuoi farlo c'è il video tutorial con i filati puoi crearlo e poi farlo direttamente metterlo in un altro soggetto sapete cosa ci era venuto in mente anche una bella idea per fare questo i cerchi di metallo abbiamo i cerchi di metallo adesso l'anna fa su e giù per le scale perché il nostro negozio è a due piani no abbiamo un soppalco qui che io guardo giù parlo per chi ovviamente non non è mai venuta e quindi oggi sono stasera sono su nella parte sopra dove ci abbiamo i filati le biancherie per la casa e l'anna sta facendo su e giù per le scale e così smaltisci la pizza la pizza l'ho mangiata io prima ok l'anna non ha mangiato la pizza smaltisci la cena allora non diciamo neanche cosa ha mangiato per far veloce eccolo qua ruth quindi alla fine vedi che l'abbiamo riproposto un'altra versione ma è lo stesso identico mandala che abbiamo fatto nella shopper ma che velocità esatto eccolo qua questa ci era venuta in mente parlando e dobbiamo farlo questo anno sì dobbiamo farlo perché molto bello aspetta un attimo perché l'anna si è spostata la regia la simona non ho letto l'ultimo messaggio scusa simona dopo me li rilego tutti i messaggi allora questo è il cerchio di metallo che volevamo fare tipo la chiappa sogni a proposito di questo nel canale youtube trovate questa idea qua con la chiappa sogni fatta con l'aiuta e non si fa con l'uncinetto in quel caso in quel video ed è una cosa bellissima velocissima una soddisfazione immensa ecco anche quello potremmo proporre adesso che mi sai che c'è già il video su youtube fatto con l'aiuta con l'aiuta chiara panna che l'abbiamo fatto come fuori porta chiappa sogni eccetera lo dobbiamo riproporre colorato secondo me è una genialata però il mandala di prima e adesso se stiamo qua un'altra ora ne vengono altre tante idee questo qui scusa manuela allora è molto dura la raffia mi chiede manuela se è molto dura da lavorare allora se ti dico i primi cinque minuti del mio progetto ho detto ok e ho fatto un bel om però ti assicuro che poi mi sono rimangiata tutto perché in realtà all'inizio sì ma perché ripeto siamo abituate con la lana e il cotone che è tutta un'altra roba tutta un'altra roba poi come la raffia all'inizio anche quella ho fatto om poi ho detto no cavoli vengono fuori le cose meravigliose ci devo mettere più impegno e mi sono un attimo rilassata e ti assicuro credimi ti assicuro che poi sono andata avanti spedita anche con la raffia sia con la raffia che con l'aiuta veramente non posso dirti di no siamo abituati in un altro modo è un altro filato tutta un'altra roba oddio mi sono persa l'amanuela l'altra volta continuo ad andare sui messaggi non riesco a leggerli ah per quel che riguarda l'aiuta no non è complicata questa qua quella delle pochettine dici no 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 ti assicuro che lo fai in velocità ma proprio in velocità supersonica l'ho fatta con il 4 sia questa che il pizzo l'ho fatta con il numero 4 ma perché ho una mano che tende a tirare allora piuttosto dico aspetta che sto un attimo più morbida vabbè finisco un secondo questa perché un'altra idea che voglio darvi che mi è venuta così al volo il cerchio di metallo e fare il mandala questo è bellissimo il mandala questi qua ci sono di varie misure quindi questo qua ci andrà bene il cerchio numero 20 secondo me se volete farlo così ma se volete continuare a farlo anche più grande nel video vi spiego come fare e si fa allora se devo vedere manuela le due secondo me è più dura l'aiuta se devo dire la verità però dopo ti prendi bene e vai tranquilla poi tu insomma tu sei super esperta quindi non mi faccio neanche problemi però tra i due è più dura l'aiuta la raffia all'inizio sembra ma dopo vai tranquilla vai molto più tranquilla con la con la raffia ecco ti dico la raffia ho fatto la borsetta vero quindi c'è è tanta roba e anche ho fatto molto molto veloce è stata una lavorazione velocissima questa qui una soddisfazione immensa questa qua da fare un attimo tattac vai avanti che è un piacere l'aiuta ho fatto due applicazioni un po più rigida vabbè non ho visto nessuno che mi ha detto che ha le prime armi quindi a parte la daniela che mi ha detto prima comunque questo perché non lo conosce è l'uncinetto stiamo parlando stiamo parlando ma cos'è sto uncinetto no ma dai se siete qua ascoltarmi vuol dire che l'uncinetto sapete bene che cos'è insomma però la mia valletta mi ha portato l'uncinetto a farvi vedere ok allora la mia ora è passata aspetta aspetta che ho le riviste da farvi vedere perché ho detto anna se mi dimentico fammi vedere tu cosa allora guarda qua abbiamo le riviste della mondial con tantissimi schemi passo passo questa è una bellissima idea che hanno creato un kit perché ne abbiamo veramente quattro in croce andiamo a prenderli per farle vedere visto che mi hai fatto vedere questa però ne abbiamo veramente pochissimi spero che riarriveno ancora perché era un kit di 6 8 unito adesso mi ricordo con il manico già di bambù incorporato nel kit una genialata perché con 19 euro e 90 tu facevi la tua bella borsa con lo schema anche a disposizione e ne abbiamo venduti tantissimi ed è per quello che magari magari prenderne una così così vediamo ne approfitto eccola qua adesso ve la faccio vedere anche dal vivo la borsa abbiamo fatto i campioni sono piaciute tantissimo adesso vediamo se riusciamo a farle a ritornare vedi per esempio questa qua questa è fatta tutta di juta ok quindi alla fine ti metti a lavorare a fare tutto punto basso ma si fanno questi manuali queste riviste hanno non solo le foto vedi passo passo con i propri progetti ma anche poi dentro nel framezzo ci sono tutte quante le spiegazioni due ne abbiamo benissimo cioè sono tutte quante che le spiegazioni dei progetti che vedete dentro sono veramente molto belle aspettate che vediamo cosa cosa posso farvi vedere ecco per esempio questa è fatta con la treccia questa qui rosa la treccia che è questa qui è bellissima si lavora col 4 questa è fatta tutta con l'aiuta tanta roba questa vedete quindi alla fine si possa e questa con la raffia guarda questa che bella aspetta eccolo qua ok quindi alla fine si può io ho fatto cose piccoline ma perché perché so che la maggior parte di voi mi dite sempre non ho tempo e allora siccome si fanno non so dieci progetti un po più soft e slim nel senso che poi si si trova piacere nel farlo e nel vedere subito il risultato finale magari qualche progettino un po più laborioso però ci sta dai ragazzi insomma alla fine è un passatempo non lo si fa né con l'ansia di dover fare una cosa perché bisogna ma si fa soprattutto per il piacere di farlo come se uno dovesse fare un puzzle voglio dire un passatempo quanta gente là che legge un libro e quanta gente guarda i film e quanta gente fa un cinetto è proprio un passatempo se lo si gestisce così lo si fa veramente nei cinque minuti prima di sta bollendo la pasta prima che bolla l'acqua per la pasta asciutta facciamo due tre punti sono sicura che anche voi fate così perché io ho sempre il mio angoletto di tavola come l'anna verona l'anna al punto croce l'anna al punto croce perenne sopra la tavola e da lì non si scappa ecco vedi ha fatto anche un post l'anna stamattina nel dire proprio che è così quando piace una cosa e deve essere così meno male mentre se si fa odio me tocca allora si fa molto più difficile e tanto per ritornare alle nostre mattonelle e quelle qua la mondiale riproposto veramente un sacco di moda per quel che riguarda i suoi filati e veramente sono bellissimi perché avete dei top il cappello qua l'ho fatto il berrettino l'ho fatto a mia figlia l'anno scorso per l'estate e ero così presa nel farlo ma si dai faccio un campione che non ho neanche fatto il video se no avrei pronto anche questo ma ma chi lo sa se riuscirà a fare qualcosa per i prossimi mesi e vi faccio vedere altri progettini vedete anche questa guarda che bella ci sono cose molto molto belle con tutti gli schemi dentro questi questi manuali vabbè non mi non mi brucio tutte le idee perché qua veramente ce ne sono per tutti i gusti sia per volevo trovarvene un'altra ecco questo che si può fare tranquillamente con il filato quello che vi dicevo prima per i costumi e dentro ci sono le spiegazioni ovviamente come fare fatto vedere tutto no ho fatto tutto quanto perché su quello lì abbiamo due colori in croce io volevo far vedere dove abbiamo un bel po di assortimento abbiamo altri due tre filati che sono arrivati nuovi insieme con il discorso del quello dei costumi ma non ve li faccio vedere perché non abbiamo ancora preparato nessun campione quindi sono belli da vedere vi faccio vedere il gomitolo ma mi fermo qui perché in realtà è una caramellina molto bella sembra un dolcetto ci sono varie gradazioni di colore le metteremo presto nel sito ma non ho nessun campione da farvi vedere perché è nuovissimo arrivato l'altro giorno quindi per quanto sia lì a sferuzzare e uncinettare ma ci vuole tempo per far tutto ma non vi preoccupate noi in qualche modo vi continuiamo a tenere aggiornate quindi grazie infinite per questa diretta vieni a salutare la cosa fondamentale per tenerci sempre aggiornate è whatsapp vero anna? continuo a vibrare continuo a suonare perfetto quindi quello è il modo diciamo per essere più intime e legate perché durante la giornata insomma poi ci scrivete anche se ci scrivete a qualsiasi ora del giorno della notte noi comunque rispondiamo in orario di negozio quindi voi non vi preoccupate scrivete quando arriviamo la mattina rispondiamo prima che arriva comincia a rispondere e mandare foto eccetera insomma quindi grazie vi ridico il numero anzi Anna l'ho scritto prima ma lo ripetiamo 366 4890404 perfetto segnatevelo vorrei dire insomma l'impressione ma non ce l'abbiamo ancora questa cosa applicazione questa volta un bel cerchietto con il numero di telefono che ha portato su l'Anna che ha portato l'Anna su cosa hai portato su Anna? ah hai ragione Maria scusami le cose i kit sono troppo presa sono troppo presa male Anna Maria sono troppo presa male allora questo è quello che vi dicevo prima ma siccome ne abbiamo due in croce mi dispiace farvele vedere perché poi non so spero che ritornino ma non ve lo posso assicurare questo era il kit famoso che vi dicevo prima quindi sono otto gomitoli di cotone assortiti ma sono già assortiti così perché hanno creato la borsa con questi colori che colore mi hai portato su adesso? questo con il beige, sfondo beige e sfondo bluetto sono gli ultimi rimasti sono rimasti questi due e con questo kit riuscite a fare una borsa non guardate il colore perché questo era un altro kit che non abbiamo più riuscite a fare una borsa completa eccola qua i manici di bambù sono già compresi guardate che genialata, guarda ho fatto tantissimi complimenti alla Mondia perché ha fatto veramente un packaging e una idea geniale c'è quel manichetto così in bambù spettacolare queste sono cose che mi fanno wow spero di riuscire ad averli ancora questi qua perché con 19 euro e 90 riuscivate a fare la vostra borsa completa in più c'era il QR code da scaricare lo schema in omaggio acquistando il kit quindi vi farò sapere appena vedete qualche foto sui social o sullo stato di whatsapp vuol dire che sono tornate bene Anna salutiamo finisci di rispondere allora speriamo di non avervi annoiato quello è fondamentale adesso ci facciamo una bella foto con questo sfondo bellissimo colorato grazie per averci seguito per averci fatto compagnia certo è stata una bellissima serata quando c'è da parlare di cose belle così speriamo di aver fatto cosa buona per tutti ce ne erano un bel po' di collegate sì quindi devo dire che bel numero anche stasera devo dire che anche il feltro è stato super gettonato ma devo dire che anche l'uncinetto ci piace ci piace bene aspetta che spondi tu gli ultimi la regia è di là adesso viene a rispondervi mandiamo un mega bacio a tutte quante adesso l'Anna finisce di rispondervi scrivete i commenti qui sotto scrivete su whatsapp e domani mattina appena torniamo leggiamo tutti quanti non vi preoccupate facciamo spedizioni in tutta Italia non ho detto tante cose del sito beh dai c'è il sito ormai abbiamo sforato l'ora abbiamo appunto lo shop online basta scrivere l'angolo delle idee shop.it ma comunque trovate il link ovunque abbiamo tutto quanto quello che vi ho fatto vedere stasera per qualsiasi cosa scriveteci su whatsapp facciamo spedizione in tutta Italia anche con il contrassegno perché tante ci chiedono questo aspetta che è molto importante da dire quindi col pagamento direttamente al corriere in contanti quindi non vi preoccupate possiamo fare anche questo tipo di pagamento se qualcuna è in difficoltà o ha bisogno insomma che ci sia comodo il corriere lì ecco e basta mi sembra divertito tutto comunque per qualsiasi cosa noi siamo qua esatto ciao buona serata anzi buonanotte ormai buonanotte ormai grazie di tutto ciao ragazze ciao 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 ciao